Così Pergolesi descrive gli ultimissimi istanti della vita terrena. Non è stata continua, continua con la preghiera e soprattutto con la certezza della salvezza e della vita interna. E' un sacrilegio musicale che interrompe dalla signora Maestro Sissi ci perdonerà interrompere un attimo la sequenza musicale della Pergolesi dello Stato Annato. Ma ci è piaciuto a questo punto della serata. Inserire ancora un brano del vostro cuore cittadino. E mi consento una vera battuta. Ho avuto il privilegio, anzi l'onore, di dirigere, no? Cioè piuttosto di fare il vigilo urbano a dirigere il traffico delle voci del loro cittadino. Devo dire la verità. Con il suo naturale Maestro Mimba Annunziata è tutta un'altra cosa. Sono davvero bravissimi. E stasera stanno dimostrando di essere veramente all'ortezza di inserirsi in un contesto così impegnato. che ho avuto tanto musicalmente. E devo farlo loro un minuto di un po' di un po' di un po' di un po' di un po'. Grazie. La cena per l'agnello Attraverso il mar rosso Cambiamo a Cristo Signore Il suo corpo sono d'amore Il suo corpo sono d'amore Il suo corpo possono ebit Il suo corpo sono taito Activiamo a Cristo Il suo corpo sono d'amore Il suo corpo sono d'amore Grazie a tutti. Torna agli antichi proditi, un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore. Grazie a tutti. Torna agli antichi prodotti, un braccio potente ci salva dall'angelo. Torna agli antichi prodotti, un braccio potente ci salva dall'angelo. Torna agli antichi prodotti, un braccio potente ci salva dall'angelo. Prepari il regno eterno O Gesù nel cuore il sogge Sei vittorioso sulla vita Viva il nostro figlio L'amore sconfiggi sbalanti in paradiso Atti gloria e potenza Onore e benedizione Ormeio e morato L'amore sconfiggi sbalanti in paradiso 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 L'amore sconfiggi sbalanti in paradiso